Capitolo 1. E con il cucciolo fa 3. Eravamo giovani. Eravamo innamorati. Ci stavamo godendo quel fantastico primo anno di matrimonio quando sembra che la vita non potrebbe andare meglio. Non ci bastava. E così, una sera di gennaio del 1991, Jenny e io partimmo per andare a rispondere a un annuncio del Palm Beach Post. Non ero sicuro del perché lo stessimo facendo. Qualche settimana prima mi ero svegliato poco dopo l'alba. Jenny era seduta in accappatoio al tavolo di vetro sulla veranda della nostra casetta, china sopra il giornale con una penna in mano. Non c'era niente di insolito nella scena. Non solo il Palm Beach Post era il nostro giornale locale, ma era anche la fonte di metà del nostro reddito familiare. Lavoravamo infatti in due giornali diversi. Jenny come articolista nella rubrica assente.